L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Carige ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri, nonché il Presidente e il Vicepresidente per il triennio 2018-2020. La lista votata dalla maggioranza è stata quella di Malacalza Investimenti SRL che ha ottenuto il 52,59% dei voti. Presidente è stato eletto Piero Modiano e Vicepresidente Lucrezia Reiklin. Nel CDA in quota Malacalza ci sono anche Fabio Innocenzi, Stefano Lunardi, Salvatore Bragantini, Francesca Balzani e Lucia Calvosa. Dal fronte opposto sono entrati nel CDA Raffaele Mincione, Bruno Pavesi e Luisa Marina Pasotti. Infine per Alleanza Assicurazioni Spa, Generali Italia Spa, Intesa San Paolo Vita Spa, Planetarium Fund Antiria Silver, fa parte del CDA Giulio Gallazzi. L'Assemblea ha inoltre nominato sindaco effettivo Stefania Bettoni e a seguito di tale nomina Fiorenza della Rizza torna a ricoprire l'incarico di sindaco supplente.